Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia, vediamo l'aggiornamento sui numeri in Italia. Quindi continua in generale a calare il numero quotidiano dei decessi, in Cina ieri erano state 29, il livello più basso registrato da quasi un mese, in totale sono 78.824 i contagi, con 2.788 le persone scomparse, mentre in Italia i casi sono saliti addirittura a 821 alle ore 18, dati forniti dalla protezione civile, 821 persone infettate e ci sono 21 morti e 46 guariti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare, siamo anche in Facebook nella pagina Teleitalia dove trovate tutti gli stessi video presenti in Youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.